Stai reccando? Dove sei Melanie? Perché mi chiami Melanie? L'amo Forza fai questo gruppo Ma cosa sono questi urletti? Start party chapter 2 Dai! Non fare il porco Chapter 2 Oh! It's dark Se sei epilettico non puoi giocare Oh! Questo chapter 2 may contain disturbing gameplay Meglio ancora Ma tu chi sei? Volpasos Bene Mi fa bene Oh! No! In realtà non mi sono spaventato Non so perché ho urlato Ti ho visto roteare tantissimo Perché ti ho visto roteare? Perché quando urlo mi viene spontaneo Oh! Orcudì! È stato bellissimo Eccolo È lunghissimo Non puoi correre No Bene Stiamo Buongiorno Non allunghi il mio collo Brother Non vedo nulla Non vedo nulla Ah! Non vedo nulla Dove si va? Di qua di qua Ma dove vai? Vieni! Ma che stai facendo? Ma dov'è? Dove sei? Ah! Io non ci vedevo Comunque non mi insegue più Vieni! I need to find Leather for this door Questo è il luogo di culto degli Come vedi c'è un forno Qui cosa abbiamo? Una chiave E tu sei un Adesso Mi dispiace Ragazzi ovviamente Freud ha detto Sei un pezzo di carne che si sta cuocendo Non ha detto nient'altro di compromettere Non ho detto Allora dobbiamo trovare la leva Dobbiamo aprire una porta nella libreria Con la tipa Ah buono Sacrificati vai Forza Siamo tutti con te Vieni vieni Andiamo Per la patria Eccola E ma come faccio qua davanti? Vai Oh qui 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 vieni Forza È dietro Parco 2 Sta arrivando Parco 2 Ah ah apri Non funziona Oh no Via Aiuto Ah no No ti prego No sono in mezzo alla libreria Addio che brutto Aiuto Aiuto Non so dove sono È dietro di me Ah Eccola qua Quella lì E quella lì Vieni E quella lì Corri 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 Oh 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 Orcozù Orcozù Sta allungando il collo Veloce Apri Sì Apri Ah 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 Oh Gesù Ok Oh Bene È una sedia per essere giustiziati Cosa ci serve Sì Se ad entrati qui Ah ho tirato la leva Avrà aperto quella porta là Che abbiamo di fronte Dobbiamo correre Oh cos'è stato Ah vieni qui è aperto Sì vieni qua dove eravamo prima Aspetta C'è il suo collo che è troppo lungo Dai vieni esci da lì Devi seguire Eh non posso Non posso il suo collo è che è troppo lungo Aspetta un attimo Te la distraggo ok Dai esci Esci da lì vieni Aspetta sono incastrato nella sedia Gesù di Dio Dai esci te la sto distraendo Te la sto portando qui Bravo bravo Continua continua Eh mi ha visto È molto brutto da fare sai Mi ha visto È dietro È dietro Faccio lo slalom Dai vieni 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 Ce la si fa ce la si fa Dove sta andando Qua 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 vieni Ah pensate ci sia uno spiegato nella porta Invece no Fallita Aspetta entriamo Aspetta dove è che si va Ecco qua Qua Dove sei? Dove vai? Qua Girati No Ah Seus Comunque ha detto che un cinese li ha divorati Buongiorno È permesso? Dove siamo? Siamo in Polonia Sai rampicare Ah Due Bene Ecco la leva Eh guardi in alto Eh? Perché vai in giro così Tu vai in giro così No tu lo fai Tu ogni tanto vai in giro guardando in basso E tu in alto vai in giro così Non lo faccio mai però sei buggatissimo Perché siamo più veloci? C'è qualcosa che ci insegue? Sì Bruh Ah 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 Cos'è? È il Cristo Mietitore Eh ma come facciamo? Dobbiamo girarlo Corri 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 Dov'è? Corri il San Antonio Ah No Oddio No 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 Non è aperto Dimmi che si apre la porta Dimmi che si apre la porta Dimmi che si apre Grande 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 È un trucco Tu non si apri No Eh ma La porta non è aperta Cosa dobbiamo fare? Ah Orkutseus Vai Buona fortuna Allora Incontriamo l'amico Sì Grande amico Arrivederci Perfetto io vado via Sta aperta vieni Corri 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 Come ce la fai? Dov'è? Dov'è? È dietro di te Vieni Help Sfigato Allora Inizio di tutto Controlliamo queste porte No Ci serve Un butterfly spirit Allora Vieni prima in questa Cosa sono questi Dei bambini? Sì Sono dei bambini Ah qua c'è il butterfly spirit Ora andiamo all'albero Qua in questi cespugli Non c'è nulla Perfetto Perché non mi fa andare? Scusa Il butterfly spirit Ti ho sempre problemi con le poche Stai zitto Oh Cos'è? Oh Viene da qua credo Ho molta paura Perché mi giro E penso di avere qualcuno Che mi corre dietro No 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 Siamo veterani Cristoforo Colombo morto Io non ho ricevuto Nessun jumpscare Neanch'io Neanch'io Solo rumore Samano Samano Basta il broken out L'hai visto? Eh no Infatti dice che qualcuno È fuggito da qua Infatti ci sono le catene Bene andiamo a sinistra C'era una persona molto brutta Sì sì Ci torniamo dopo Allora Vediamo cosa c'è qui Dietro di te Che cazzo? Ah non l'hai visto Sono coparse delle mani qui Che hanno provato a prenderti Bene Meglio che non l'hai visto C'è una porta C'è una porta Andiamo alla porta Ma serve il butterfly spirit Credo Vediamo cosa ci riserva Questa porta Oh Un red carpet Eh no però Oh No non mi piace Non mi piace per niente Prendi il blue spirit Dice che tua mamma è strove Ok ora Vai lì A sinistra E avrai una bruttissima visione Ho il blue spirit Non c'è più Non c'è più C'era un tizio altissimo Allora qui c'è Una che urla Aiutatemi No bruttissimo No non lo voglio fare Sia morti Sì ma perché C'era un mostro davvero Io ho visto Un jumpscare Anch'io Ma se ci ha fatto morire Scusa Dobbiamo andare nell'altra Quella verde Il blue spirit Ok siamo per andare Lo sto finito Ho la prima parte Di questo capitolo Meno male La scroppa Che grida aiuto Non la volevo Chapter 2 2 Abbiamo farci Mini parkour Che non è un parkour C'è una burla Lanciandomi Oh c'è il contadino Bucato No amico farmer Cosa sono questo Cosa Cosa dove Ma c'è una porta verde Corri 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 Il verde No Credo di aver trovato Ho trovato Su questo masso Ti devi arrampicare C'è il butterfly spirit Andiamo al verde No un altro labirinto No dai che palle Sì Non ce la posso fare Ora ci divertiamo Vuoi andare avanti No questo è molto più brutto Dell'altro Molto molto E' tanto più brutto Siamo entrati In una solita di hotel Ci siamo già stati In una solita della travolta Cioè adesso C'è l'ambientazione Dell'hotel dell'altra volta Ora siamo a scuola E ora spunta qualcosa Dagli armadietti E' palese No 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 Ora spunta qualcosa Da davanti Ecco Cos'è? Chi vuole avvicinarsi Vai tu bravo Everything has been a mimica Of your early Since the beginning Since the beginning Perché ci stiamo avvicinando? Oh Ecco E pareva Bene ora possiamo avvicinarci Vero? Ma che te è murd Oh bellissimo qui Mi ricorda Outros A me ricorda Oh Cristo No No Oh 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 No 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 Questi si muovono Sono tanti che si muovono Sì 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 Aspettami Aspettami dove sei Qua dietro di te No 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 mi sto cagando Adesso troppo No questi sono Credo Orco Di piazza Non andare avanti Senza di me No 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 Santo Gesù Bambi 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 Cioè l'aveva detto all'inizio che questo era molto più disturbante Infatti lo è Però qua davanti c'è una bambola che si muove adesso lo sai Di sicuro È passata là davanti al corridoio vuoi dire che inizia la boss battle La boss battle? E beh come la chiami questa? Oh c'è la Non abbiamo Non abbiamo la butterfly Dobbiamo trovare E no Serve là Però dobbiamo trovare la chiave anche per quella porta Facciamo di là Corri 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 Ciao come va bellissima Magari queste non si muovono No secondo me non si muovono Però che non si sa mai Ok bene Qui troviamo quello che stiamo cercando Bene Cosa? Non lo faccio Vabbè è una roba di tutti i giorni Ah 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 Io dai ho appena mangiato la pizza sto per vomitare Di qua c'è la Ah arriva 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 Da dove? Dal centro Arriva sempre dal centro Ah 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 Che dici la centro? Oh Oh Cristo Non ho più stamina Non ho più sacro santo Gesù No è impossibile ma come bisogna farlo? No 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 Corro 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 Non mi prendi bastarda Non mi prendi Sono tornato all'inizio Come facciamo? Non ce la si fa Non puoi farlo questo Proviamo così E vabbè Eh arriva sempre da lì vedi Secondo me dobbiamo andare da dove lei arriva Quindi là giriamo Facciamo un giro e corriamo Ora seguimi ho un'idea No Fran non ce la faccio Io muoio Seguimi ho un'idea Sto per piangere Aspettiamo che arrivi Appena sta arrivando seguimi No no sta arrivando Corri 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 al momento Vieni 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 Non è per niente il momento Sto per morire Trovata trovata Mi è uscito scritto E' lì davanti Ho capito ho capito è lì davanti Ho capito è lì davanti L'ho vista L'ho vista la chiave Easy bro easy bro E' in fondo al corredore Sto per morire Sto per morire Allora vado 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 Ecco ti sono dietro E dietro anche l'edito Esatto Ecco è qua Tento 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 Torco due Non lo no Io l'ho presa Dovrebbe bastare Qua Hai vinto qua No 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 è pure allagato Che brutto L'ho vista passare Qui da qualche parte Lei Butterfly Eccolo Vedi la torniamo indietro No è qui Ah Porco Chi ha No No corri 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 No Ma sei vivo Sì 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 Sono qua sono qua Sono qua sono qua No non ci riusciamo Non ce la facciamo No mi ha preso Ce l'ho fatta No Beh in teoria basta il tuo Ma ce l'hai fatta per pochissimo Perché io ero appena dietro di te E mi ha preso Ancora Così ho modo Ok forse abbiamo finito il capitolo eh Oh perché inventario adesso E luce No Perfetto siamo morti Su Oh Oh Andiamo qua In uno dei giardini Eh sì qua sarà brutto Non brutto quanto prima Perché prima era veramente utile No 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 qua è peggio Ah ok Io rimarrei anche qua Credo sia una zona sicura sì Oh ah ah aiuto Sì buono No va bene dividiamoci No no perché ci siamo divisi Perché non parli Dopo questo torno nella zona sicura Perché solo a sentirlo è stato terribile È stato tanto terribile Allora io sento qualcuno camminare Spero sia tu e non il coso Eh non lo so Non credo sia quello È quello È quello Fidati Se senti qualcosa camminare non sono io Hai capito Io ho paura adesso Ah eccolo È passata davanti a me No mi stai mettendo una paura incredibile No no Io non l'ho nemmeno visto Va Va troppo veloce Va velocissima Se ti vede sei morto Non puoi scappare Eccoti Oh È andata di là Corri di qua Quindi le zone sicure servono Perché appunto siamo troppo lenti Oh È là in fondo È quella là in fondo Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando No corri Aiuto Che succede Zona sicura Entra Entra Sei vivo No Sono morto Sto tornando Ecco ho trovato l'uscita Ma non ho la farfalla Eccoti Dove Girati Arriva Di qua Vieni Ah 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 Sato Dio Ah Io sono salvo Io no Per poco Non so poco meglio Sono finito in faccia Allora Oh Ma che è stato Oh Sto livello è impossibile Sì Altamente Sta arrivando verso di te Ho visto a correva fortissima Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Ma non so dov'è Tutto il momento per correre Cristoforo Morto In cuore Aiuto No Ah 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 No lo so No ti prego Ah Ora sono fottuto Io però Perché sono Quando l'ho vista Correre verso di te Ho sfruttato un momento Per correre nella direzione opposta Ma ora era un piccolo cieco Quindi ora stava tornando qui Io sono fottuto Infatti Vabbè fa culo Mi mancava pochissimo Per il rifugio Sei quello Sei quello Oh no Oh no Arriva 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 Dov'è C'è un rifugio Ma cosa Eri arrivato Ma quando Ma non mi hai preso Si ti ha preso Ma eri praticamente arrivato Grande dio Adesso è passata a me Eccola Strabuchino mamma No la strabuchino No 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 Infattibile E' infattibile I giardini non ci sono Ho trovato Io ho trovato il giardino Ma come faccio se arriva lei adesso Ma come fai a sapere se è quello giusto Tra l'altro Eh non lo so sono tre Ti è quello giusto Non ci credo Io il butterfly spirit ce l'ho Eh No è qua No è qua Ma non me la fa prendere poi Perché faccio grabbi Non me lo prendo Ho trovato un altro giardino Ma come E vedi ma qua non c'è una cosa Oh Eccolo Ci sono Ma qua 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 Eccolo ce l'ho Ok Prendila Io ce l'ho Ora ci dobbiamo trovare Dobbiamo trovare la La porta Io so dove la porta Ma non so dove sono io Ma dobbiamo Dobbiamo trovarci Per forza Beh provo Io vado Io vado Io vado Sento i suoi passi Eh Mie dietro Mie dietro Mie dietro Santo Santo Lui Eh Non c'è rifugio Non c'è rifugio Non c'è rifugio Ragazzi 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 Aspetta devo passare il volume Mie dietro Io Io sono Io sono in un giardino Ah ho trovato la porta No aspetta Io sono nel giardino Io sono alla porta No fra io non ho il problema Io sono nel giardino Il giardino non è zona sicura Io mi sono imbucato in una pianta E lei non può entrare in questa pianta Ma io non posso uscire Eh mi ha preso Io adesso sono alla porta Se tu davvero sai dove è la porta Possiamo trovarci Quanto c'è la mamba No Ancora Kit & Murt Oh dentro Oh oh Sono salvo Ora dobbiamo ritrovare il giardino Compa E Oh aspetta il giardino Oh ma sei un pro È il giardino della parcellina Ah inizio Ok allora andiamo alla porta In teoria adesso possiamo farlo Eccoti Eccoti Premo dietro 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 Facciamo gli intelligenti scusa Tu hai la cosa no Vieni qua Qua c'è la mappa No fra Sei trasciato Dai porca tronina Dai finisci tu per me Dai non è difficile arrivare all'uscita Non è difficile però Quindi poi in destra Al secondo Destra E poi il primo a sinistra Destra Secondo destra Primo sinistra No mi son perso Non ci credo Merdissima comadre No come Questo è l'inizio Meglio così ti puoi orientare Destra Secondo destra Sinistra Destra uno Destra due Ma la prossima a sinistra Cristo E ancora Eccola Eccola La farfalla Mettila farfalla Mettila farfalla Mettila farfalla Mettila farfalla Apri Apri Ah Apri Ah ci sono Ci sono Ci sono Ma è finito il capitolo o no? No Sto percorrendo una via Ora devo arrivare alla fine Aspetta End of chapter 2 Oh ce l'ho fatta Vabbè diciamo che l'ho finito anch'io vero? Si Oh che cazzo Cos'era? Niente c'è un paggiano gigante Dio buono che paura Bene ragazzi io direi che possiamo anche concludere qui Abbiamo finito il capitolo 2 Dio buono Se questo era il 2 Immagino il 3 Bene direi che possiamo anche chiudere Al prossimo venerdì che è di ossa Arrivederci Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.